buongiorno a tutti e benvenuti in questo video buongiorno a tutti voi io sono cristina e io sono romina e oggi siete sui canali del museo nazionale etrusco di villa giulia approfitto di questi secondi iniziali per ringraziare tutto il pubblico del museo che nelle scorse settimane ci ha dimostrato affetto ci ha lasciato un like un commento ha ricondiviso i nostri video per noi naturalmente è importantissimo avere questo riscontro da parte vostra e quindi vi ringraziamo come la settimana scorsa luca anche romina fa parte del personale af del museo e quindi per me sarà interessantissimo in fase di analisi confrontare le loro risposte e vedere un po' che cosa mi raccontano quindi direi di partire senza indugi romina sei pronta assolutamente pronta perfetto allora partiamo con la prima domanda ti chiedo di raccontarmi qual è il tuo ruolo all'interno del museo le attività che svolgi sia in relazione alle collezioni che all'esposizione ok allora sono un'archeologa non sono un'etruscologa sono un'orientalista di formazione ma ho la fortuna di lavorare in un museo che in tutto sommato si avvicina molto a quella che è la mia formazione universitaria quindi da questo punto di vista mi ritengo assolutamente fortunata sono otto anni che lavoro in questo museo con dei ruoli che sono cambiati un po' nel corso del tempo diciamo che come appunto come ha già detto luca noi siamo degli assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza mi piace sottolineare il fatto che i nostri le nostre prime i nostri primi termini sono fruizione e accoglienza è di fatto il nostro ruolo fondamentale all'interno del museo noi siamo il primo impatto che il visitatore entrando a io poi in realtà mi occupo di tante cose una delle cose più divertenti che faccio è sicuramente la mia la mia partecipazione ai servizi educativi quindi io mi occupo di visite guidate ma soprattutto mi occupo dei ragazzi e dei bambini questo come prima cosa poi in realtà da archeologa ho la fortuna di lavorare nei depositi di villa giulia in particolar modo sono ormai un paio di anni che ci occupiamo dei sequestri perché perché villa giulia prima di diventare museo autonomo era la sede principale della sovrintendenza dell'etruria meridionale quindi i nostri depositi strabordano di oggetti che necessitano di essere catalogati visti aperti per la prima volta in assoluto e quindi diciamo che quando non faccio front office il mio back office fondamentale è soprattutto questo esatto allora è bella questa cosa che mi hai detto perché anche una delle mie attività preferite delle mie esperienze che ho avuto in musei inglesi lavorare proprio a diretto contatto con le collezioni catalogare scoprire che magari è una cosa su cui non ci si sofferma tanto perché non è visibile all'esterno però da tante soddisfazioni e ti permette anche di stabilire un legame con le collezioni che è molto forte perché le tocchi con mano quotidianamente in realtà è uno scavo è una forma di scavo e quindi questo per me che sono poi fondamentalmente un'archeologa che ha lavorato per anni sia sui cantieri e in missioni sia in italia che all'estero di missioni archeologiche ovviamente parlo e avere la possibilità adesso di scavare nei depositi è un qualcosa di meraviglioso e mi fa ricordare chi sono perché è bellissimo lavorare nel museo ma il rapporto che io poi vado a restaurare con gli oggetti è fondamentale perché più li conosco più sono a contatto con loro e più riesco anche a trasmetterli ai visitatori che incontro tutti i giorni esatto è assolutamente un punto che condivido con te avendolo sperimentato in prima persona ti chiedo quindi visto che appunto mi hai parlato del rapporto con i con i visitatori dell'accoglienza del sorriso in questi anni che hai lavorato a villa giulia cosa ne pensi del rapporto che secondo te esiste tra il pubblico e il mondo etrusco quindi in generale come descriveresti questo rapporto cosa cosa ne pensi beh dipende di chi parliamo allora le nostre statistiche ci dicono che noi siamo molto frequentati dagli stranieri e gli stranieri devo dire che hanno un approccio tutto loro con il mondo etrusco molto diverso dal nostro visitatore medio passami questo termine italiano loro vengono con degli occhi particolarmente curiosi noi perché abbiamo una formazione di natura più classica quindi il nostro approccio verso le collezioni rimane tutto sommato un po classico il mio modo di lavorare con i ragazzi invece mi consente adesso di dirti che loro invece rimangono con gli occhi spalancati perché se sei in grado di metterti in contatto con loro in una certa maniera veramente vedi che finalmente riescono a capire ad esempio una delle cose fondamentali che la storia non c'è un primo e un dopo ci sono le cose che viaggiano in parallelo e questo per loro già è un passo fondamentale devi si fa spesso fatica a trasmettere questo perché il modo di insegnare la storia nel nostro modo tradizionale è che c'è prima gli egizi poi ci sono gli assiri e i babilonesi poi ci sta l'impero della cina poi dopo ho capito poi dopo arrivano poi arrivano arrivano nascono nascono loro usano addirittura questo termine no che fa un posto a me fa sempre tanto sorridere e quindi invece far capire guarda che in contemporanea ci sono gli umbri ci sono i sanniti ci sono i latini e poi addirittura no arrivi a dire i romani e questa cosa li lascia sempre un attimo insomma un po sorpresi quindi devo dire che è veramente particolare questo questo modo ogni volta è diverso ogni volta è diverso e anche questa è un'altra cosa che mi colpisce sempre tanto nonostante abbia un'esperienza notevole da questo punto di vista ti devo dire allora è bello questo che mi dicevi della percezione del tempo che è una cosa che appunto è importantissima che giustamente nel modo in cui spesso in ambito scolastico ma talvolta forse anche noi archeologi commettiamo questo errore quando si comunica c'è sempre quest'idea di linearità no dice questo poi c'è questo poi c'è quest'altro e invece in realtà è bello cercare di far emergere quella che è la complessità del passato che come per esempio nella nostra vita di tutti i giorni non è che le cose succedono in maniera lineare succedono in maniera concatenata e questo è un dopo esatto non è no ma esistono le cose che avvengono in contemporanea e guarda noi il nostro tentativo soprattutto con i ragazzi è proprio anche quello di di aiutarli a capire questa cosa ma soprattutto anche di fargli di fargli sperimentare le cose no perché un conto è vedere un conto è ascoltare un conto è mettere in gioco tutti i sensi che noi abbiamo i nostri cinque sensi per cui viene sempre tutto questo accompagnato da un'attività manuale laboratoriale che può essere dalla realizzazione di un vaso alla creazione di un gioiello non è un caso che ho messo questa collana che rappresenta poi una barca solare quindi con il richiamo a tutto quella che è la simbologia per cui vi facciamo lavorare anche delle lamine di rame per provare quali sono le tecniche di lavorazione che gli antichi etruschi usavano per realizzare i loro gioielli ad esempio ma ne abbiamo fatti tanti di laboratori che sono tutti poi insomma sono tutti visibili sul nostro sito ufficiale per esempio questo solo per farti un esempio sì esatto no gli esempi mi interessano tanto infatti ti chiedo quali sono le strategie me ne hai già raccontate un po' in realtà però quali sono le strategie che quindi adotti nel tuo lavoro di comunicazione per comunicare gli etruschi ci sono delle tecniche particolari approfondiscimi questo aspetto se puoi ma guarda allora sempre dipende da chi è il tuo pubblico ora se continuiamo a parlare di ragazzi giovani ovviamente l'interazione ha una natura completamente diversa diversa da una classica visita guidata cioè nel senso che loro devono essere assolutamente coinvolti e il coinvolgimento non è tanto solo nella tua voce in quello che racconti ma è proprio stimolarli continuamente quando io mi rapporto con i ragazzi devo dire che è tutto uno scambio di domande e risposta no partendo dai esempi semplici per esempio adesso mi viene in mente una delle prime cose che adesso ragionando con te mi viene in mente è come fare a raccontare la presenza di tutta quella ceramica nel nostro museo perché c'è tutta quella ceramica no allora per esempio fare un confronto con una nostra cucina e pensare che tutta la plastica tutto il metallo che noi abbiamo che noi usiamo è quello solo realizzato in argilla allora già loro fanno questo salto ed entrano nel meccanismo e capiscono molto di più di questo me ne sono accorta perché loro pensano alla plastica cioè ed è impressionante qualsiasi cosa loro tu gli dici il legame è con la plastica e non hanno idea ma l'altra cosa che su cui mi piace stimolarli anche pensare che non esiste solo l'argilla ma c'è tutto quel mondo immateriale immateriale perché è svanito è peribile è conservato perché parliamo di materiali deperibili e allora quando loro guardano anche queste cose rimangono stupiti poi guarda una delle mie specialità proprio di studi che è l'archeologia tessile cioè io mi occupo di strumenti da filatura e tessitura e di tessuti antichi per cui noi abbiamo anche realizzato con dei piccoli telai dei tessuti proprio per mostrare ai ragazzi quanto è lungo e laborioso ottenere un abito non si prende e si butta si usa si riusa perché c'è tanto tanto lavoro dietro e anche pensare a portare anche portarli a pensare a questo è diciamo un esempio come dire pregnante pieno di significato e quando loro si mettono lì a cercare di fare questo sopra sotto sopra sotto per creare una trama ti assicuro che sono in difficoltà perché una cosa che manca molto e questo è un aspetto su cui ragioniamo spesso con le mie colleghe è la manualità i ragazzi stanno perdendo sempre più la manualità è tutto un touch quindi per loro anche fare una semplicissima rete è complicato è complicato poi se parliamo ad altre tecniche sempre parlando di ragazzi mi viene in mente che noi proviamo a raccontare i nostri miti i miti che ci vengono poi dal mondo greco allora una modalità di avvicinamento è stata la lettura del kamishibai cioè di questo teatrino giapponese dove le immagini scorrono e c'è un qualcuno che legge spesso io adotto questa cosa con i bambini più piccoli è particolarmente soddisfacente mettiamo così da veramente delle grandi soddisfazioni ad esempio noi abbiamo il famoso tanti vasi in cui si racconta il mito di ulisse in cui si racconta l'accecamento di polifemo allora noi magari sai cosa facciamo andiamo con questi ragazzi davanti a queste vetrine dove ci sono questi vasi iniziamo con il kamishibai per richiamare la loro attenzione e poi arriviamo all'oggetto archeologico quindi è quasi come se fosse uno svelamento arriviamo da un racconto che loro poi tra l'altro magari qualcuno ha già sentito e poi arriviamo a dire guardate come si raccontavano le storie una volta non c'è la scrittura non c'è la scrittura c'è ovviamente ma non tutti leggono non tutti scrivono come arriva il messaggio come si trasmette quasi dei fumetti che sono rappresentati su questi vasi quindi loro fanno non riescono anche a capire questo meccanismo di come i miti la religione gli elementi di religiosità degli etruschi si siano trasmessi questo per farti alcuni esempi allora sono tutti molto interessanti e quindi mi domando invece per quanto riguarda il pubblico degli adulti hai qualche altro esempio da farmi? beh guarda in realtà con gli adulti ora al di là della classica visita guidata che comunque riscuote il suo successo perché andare in giro nel museo con un archeologo che ti racconta i masterpieces che ti fa il focus su alcune opere e che ti crea i collegamenti ha comunque sempre il suo fascino quindi ci sono non solo i fedelissimi ma anche proprio il visitatore che viene anche solo una volta magari invece vuole quello e non cerca altro però devo dire che per esempio noi abbiamo fatto diverse esperienze di altra natura mi riferisco ad esempio all'archeologia sperimentale mi riferisco agli eventi che noi abbiamo creato rispetto al far sperimentare ai visitatori come si realizza appunto una lamina di rame come si fa un vaso loro hanno toccato e fatto, realizzato anche gli adulti si trova un po' più di difficoltà perché l'adulto rimane un po' più fermo come dire abbiamo queste barriere che a volte è difficile superare ma se superi questa barriera riesci veramente a trasmettere devo dire che un grande successo è un modo per avvicinare anche alle opere ad esempio la rievocazione storica che insomma nel nostro museo devo dire è uno degli elementi più caratterizzanti della nostra realtà museale noi abbiamo fatto diverse cose ad esempio il racconto dello sposalizio del matrimonio etrusco anche attraverso un gesto rituale riprodotto grazie ai nostri rievocatori abbiamo dei contatti con tutte queste associazioni che ci seguono dove c'è questo scambio continuo perché come dire i rievocatori sono delle figure importantissime che ci aiutano in qualche maniera a trasmettere al pubblico una serie di messaggi di natura storica a ricostruire delle scene di vita quotidiana e non o anche di eventi eccezionali il rievocatore certo si avvale dell'archeologo e dello storico per cercare in tutti i modi di essere sempre più vicino a quella che deve essere la realtà storica quindi è uno scambio continuo che avviene tra noi i professionisti all'interno del museo e i rievocatori e gli sperimentatori che sono spesso anche degli artigiani e degli artigiani eccellenti Allora, noto che quindi questo elemento dello scambio ritorna molto spesso nel tuo discorso e quindi ti domando quindi pensi che effettivamente sia possibile e anche proficuo uno scambio retriciproco tra archeologi e pubblico sul tema etrusco pensi che sia possibile? Pensi che sia fattibile? Guarda, allora ci sono diversi livelli secondo me perché il nostro è il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è come dire io lo spesso nella parte introduttiva ai miei visitatori che seguono magari una mia visita guidata lo dico è come andare al Cairo ed entrare nel Museo Egizio dove tu hai raccolto veramente quelli che sono i capolavori dell'arte etrusca quindi ci sono persone che vengono una volta e non tornano più ma questo non vale solo per i turisti stranieri o il visitatore straniero vale anche per il visitatore italiano anche perché la nostra posizione fisica del nostro museo e tu l'hai visto in qualche maniera non ci aiuta da questo punto di vista questo è un grosso problema che noi abbiamo proprio la visibilità del nostro museo è ridotta quindi questo è un argomento sicuramente su cui bisogna lavorare creare un rapporto uno scambio con le nostre realtà più vicine quello sicuramente è un altro piano è un altro livello entrare in contatto con per esempio noi siamo nella Valle Giulia Villa Giulia che poi spesso viene detta Valle Giulia è nella Valle Giulia quindi dove un posto dove ci sono istituti di cultura dove ci sono le ambasciate dove ci sono altri musei quello sarebbe un punto su cui lavorare per me è importante creare una rete creare una rete perché in questo in questo modo vuol dire che c'è anche uno scambio ok benissimo e quindi ti domando nelle tue attività in quello che realizzi sia per quanto riguarda il pubblico dei giovani che le visite guidate con gli adulti quindi a 360 gradi qual è l'immagine degli etruschi che tu vorresti le persone si portassero a casa dopo una visita al museo dopo un'attività con te qual è l'idea che speri gli rimanga? questa è una domanda molto carina perché una delle prime cose che a tutti i racconti è ok questi oggetti che voi vedete qui vengono da necropoli esclusivamente da necropoli cioè il nostro museo ha oggetti che provengono solo da necropoli allora io quello che cerco di trasmettere è che quella è una pars prototo cioè quella è una parte della vita etrusca e quindi quello che io cerco di soprattutto di lasciare come messaggio è soprattutto invitare a incuriosirsi verso altre cose no? che non sono solo le nostre le necropoli quelle più famose ma di andare a scoprire questo popolo anche nei posti vivi perché si può ci sono oramai ci sono tanti scavi di altra natura che non siano necropoli e tombe quindi devo dire che io punto molto su questo perché è un po' come gli antichi egizi cioè le persone pensano che esistano solo sarcofagi e piramidi e questo non è un'immagine corretta da un punto di vista proprio di storia della storia ok quindi se capisco bene cerchi di far emergere la quotidianità un collegamento con la vita e non solo con la morte giusto perché quello che quello che viene riflesso in queste nostre necropoli è la vita non è la morte non è la morte quindi anzi anzi e ogni oggetto è particolare tu conosci bene il nostro museo è pieno di oggetti che ti ricollegano veramente alla quotidianità pensa ai braceri pensa al tirabrace cioè che per me è una cosa che quando io lo mostro alle persone rimangono a bocca aperta oppure far notare ad esempio la presenza del tre piedi che e le persone mi dicono ma questo ce l'abbiamo anche noi a casa e questa cosa colpisce tantissimo veramente tanto quindi anche degli esempi random chiaramente quindi anche uno stabilire un legame con la contemporaneità assolutamente assolutamente sì 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 perfetto è fondamentale è proprio l'elemento secondo me una chiave vincente in questa cosa è far capire la loro modernità tra virgolette in qualche maniera bene ora ti chiedo c'è qualcosa del museo di Villa Giulia che vorresti cambiare da un punto di vista della comunicazione del modo di comunicare gli etruschi c'è qualcosa nell'esposizione che ti piacerebbe cambiare che vorresti in qualche modo ripensare assolutamente tantissime cose ti puoi fare qualche esempio allora a me colpisce il fatto che sia stato utilizzato è un museo che ha un criterio espositivo da una parte bello gradevole ma è troppo ricco le persone a un certo punto si stancano anche i più appassionati sono 40 sale che sono cioè ma non sono 40 sale dell'ouvre dove tu passi da una cosa all'altra è monotematico per cui queste nostre vetrine che in realtà rappresentano dei contesti di provenienza veri quindi in realtà ti dovrebbero far capire e far cogliere la ricchezza dei materiali che vengono messi nelle tombe perché questo è il principio ispiratore però alla fine è piuttosto pesante e stancante ci sono diverse critiche che ci vengono mosse dai visitatori sulla pannellistica ad esempio troppo lunga troppo scritto e sinceramente io lo condivido questo pensiero ma perché nel corso del tempo i criteri sono cambiati anche adesso cioè noi siamo più abituati alle immagini veloci basta vedere come adesso è Instagram ad esempio il social che va di più e meno Facebook perché in Facebook si deve leggere di più in Instagram vai veloce con le immagini ora questo ho fatto ovviamente un iperbole su questa cosa però i nostri pannelli sono particolarmente ricchi ma c'è anche un altro elemento che secondo me da un punto di vista espositivo sicuramente tanto ci lavoreremo in futuro è che non c'è un pannello in cui si racconta che cos'è il bucchero in 40 sale non c'è un pannello in cui ti raccontano cos'è il bucchero quindi tu mostri centinaia di vasi neri bucchero lo chiami bucchero dai tutta una serie di nomi di date di cose ma non hai mai raccontato che cos'è il bucchero perché è famoso perché cos'era e chi era che lo produceva quando veniva prodotto le cose un po' basilari e questa cosa ad esempio io adesso ti ho fatto veramente l'esempio più lampante ma ce ne sarebbero tantissimi appunto siccome si segue un criterio che è topografico e cronologico all'interno del nostro museo quindi ogni volta inizi dalle fasi più antiche dal villanoviano per arrivare poi all'orientalizzante passi per il classico fino al contatto con i romani e ogni volta ricominci anche questo a un certo punto io vedo che le persone sono troppo stanche su questo perché poi in realtà i nuclei di interesse non vengono poi colti che potrebbero essere tematici più che cronologici e topografici è una concezione completamente diversa ma io so che con Valentino ci si sta lavorando e ci arriveremo prima o poi ok sì concordo con te su questo anche perché appunto avendo anche parlato direttamente con i visitatori talvolta magari il messaggio che passa è che le cose si ripetono sempre uguali perché appunto ogni città essendo esplorata dalla fase più antica a quella più recente diciamo di fatto le città sono tutte etrusche quindi la cultura materiale è simile il tipo di impostazione è simile e quindi passa un messaggio di ripetitività esatto questa cosa si arriva nell'ultima sezione a Veglio che vedi le persone che stanno lì cercando ok dov'è l'Apollo di Veglio ok posso uscire anche lì c'era un criterio ben preciso lo mettiamo verso la fine del museo perché così invitiamo le persone a seguire il percorso tutto il percorso per arrivare fino alla fine allora ti chiedo spostando l'attenzione più in generale anche al di fuori di Villa Giulia come potremmo noi archeologi migliorare il nostro modo di presentare interpretare e comunicare gli etruschi beh guarda allora considerando che la comunicazione principale oramai avviene sui social secondo me sui social bisogna lavorare in modo puntuale è un po' un seguire l'onda però è anche vero che la società va verso va sempre più verso questa realtà e quindi per me è fondamentale lavorare su quello da archeologa a volte faccio un po' fatica ci sono delle cose che le trovo troppo troppo spinte da un punto di vista di innovazione però è perché io sono un po' di formazione più tradizionale però va bene secondo me sono delle forme anche di sperimentazione della comunicazione perché comunque è un campo nuovo in cui ci siamo messi in gioco ci siamo messi in gioco già da qualche anno il lockdown di marzo ci ha dato veramente questa spinta molto forte ma stiamo ancora cercando una nostra identità ora al di là del mondo degli etruschi tutti i musei stanno cercando una loro identità virtuale da usare online siamo in una siamo in una fase di secondo me di passaggio da questo punto di vista non siamo arrivati ancora a un qualcosa di definitivo tanti musei ci stanno lavorando l'Egizio è famoso da questo punto di vista il Man di Napoli insomma questi sono piuttosto avanti se parliamo degli archeologici in realtà in realtà secondo me sono sempre un passo avanti a noi altre realtà museali che sono quelli di arte contemporanea lo sono sempre lo sono sempre davanti a noi hanno proprio un approccio completamente diverso e noi facciamo un po' fatica a stargli dietro ma ci arriviamo ci arriveremo spiegami meglio questa cosa in che cose i musei di arte contemporanea secondo te sono più avanti rispetto a quelli archeologici? beh allora guarda se tu adesso così faccio proprio un esempio ad esempio la Visual Thinking Strategies che è nata al MoMA negli anni settanta noi solamente in questi ultimi anni ci siamo avvicinati a questa modalità cioè a quello di partire dall'osservazione di un oggetto senza dire nulla per poi arrivare a definire questo oggetto a svelarlo ed è un qualcosa perché nasce nell'arte contemporanea perché ovviamente tu hai queste opere a volte passatemi il termine un po' astruse un po' fuori dai canoni tradizionali quindi si chiede all'osservatore di guardarle con attenzione e provare a dire che cosa mi sta trasmettendo che cosa ci leggo io e poi arrivo a dirti l'artista che cosa voleva dire la stessa cosa si sta adesso si è ormai come dire si è tradotta cioè questa cosa la stiamo traducendo anche nella nostra realtà museale archeologica in senso stretto per cui anche noi e questa è un'esperienza che abbiamo fatto con dei bambini di metterli davanti a un vaso con il racconto di una storia provate a dirmi che cosa ci vedete voi riuscite a riconoscere questi personaggi che cosa racconta no quindi ecco solo per farti un esempio secondo me da questo punto di vista sì sono assolutamente avanti questo è un esempio ma ce ne sono molti altri anche nella realizzazione dei loro laboratori il fatto di aver pensato e per prime di avere degli spazi dedicati ai ragazzi all'interno del percorso museale e noi siamo stati l'unico museo archeologico che lo ha fatto grazie a ad Alessio Argento che è il funzionario responsabile a me e Francesca che abbiamo spinto verso questa cosa noi per mesi e mesi fino poi appunto all'arrivo del lockdown avevamo destinato all'interno del percorso museale quasi a metà del percorso museale uno spazio dedicato ai ragazzi questa cosa noi l'avevamo vista all'estero l'avevamo vista in altre realtà museali soprattutto in quelli appunto di storico artistici ma anche negli archeologici del nord Europa e americani e abbiamo detto perché noi no e abbiamo provato a riprodurre questa cosa a proporla al nostro pubblico ai nostri ragazzi e devo dire che questo è stato anche apprezzato dai visitatori perché diverse persone me ne hanno parlato all'uscita dalla visita mi hanno detto abbiamo apprezzato il fatto che ci fosse lo spazio dedicato ai ragazzi era interessante gli è piaciuto vedere anche i lavori che erano stati realizzati e quindi le persone l'hanno notato bene no ma infatti non erano solo i ragazzi noi abbiamo fatto poi caso perché chiedevamo appunto anche agli adulti di fermarsi se volevano magari se noi avevamo messo a disposizione i colori i fogli da colorare stampe dove loro potevano scrivere prova ad usare l'alfabeto etrusco e c'erano gli adulti che lo facevano avevamo riprodotto dei giochi antichi di tradizione non tanto etrusca quanto insomma comunque antichi e loro si fermavano lì anche solo per riposarsi in questo lungo percorso museale facevano questa partita che è una sorta di tris di filetto moderno e si erano un attimo riposati anche questa cosa per esempio nel nostro museo sarebbe importante creare qualche spazio in più in cui le persone possono fermarsi e soffermarsi ecco perfetto allora io direi che ti ho fatto abbastanza domande e ti ringrazio per la tua partecipazione così come ringraziamo anche il pubblico che è stato con noi grazie mille e alla prossima io ringrazio voi e ringrazio te soprattutto è stato molto carino discuterne anche con te grazie grazie a tutti Grazie a tutti.